Ok, allora buongiorno a tutti, iniziamo oggi il penultimo macro argomento del corso, che è quello relativo ai grafi, poi l'ultimo sarà relativo alle simulazioni ed eventi, che ovviamente si intraccerà con gli altri argomenti che abbiamo visto, che erano quelli sulla gestione dei dati, database, sugli algoritmi e sulla ricorsione. Allora, io vorrei spendere qualche minuto all'inizio, giusto per rinfrescare un po' la memoria di che cosa sono i grafi, che è un argomento che avete già visto nel corso di ricerca cooperativa in modo molto più approfondito, ma magari da un punto di vista anche più teorico, mentre io qua vorrei rinfrescare qualche definizione, che più o meno sappiamo già, ma più che altro per allinearci sulla terminologia e poi passeremo subito, subito diciamo così, subito dopo ad analizzare invece una libreria Java, che è quella che utilizzeremo proprio per gestire questa struttura dati, diciamo così, più complessa che è quella dei grafi. Grafi sono un'entità matematica, che sono composti da insiemi di punti e connessioni, punti o nodi o vertici e connessioni tra questi punti o nodi o vertici che chiamiamo archi. in terminologia, se siamo così corretta, in inglese normalmente si trova vertici e edge oppure arc a volte sono quasi sinonimi questi due modi diversi di indicare le connessioni tra i vertici o i nodi di un grafo. La differenza di terminologia deriva dal fatto che i grafi hanno applicazioni in molti domini, in molti domini applicativi, vengono dati per modellare problemi di tipo diverso, quindi ciascun tipologia di problema a volte si porta dietro la sua terminologia. In italiano, o meglio lavorando un po' in italiano e un po' in inglese, dobbiamo fare attenzione a non confondere i termini, perché ovviamente hanno fatto il possibile per complicarci la vita, quando parliamo in inglese di graph, in realtà possiamo voler dire tre cose, il grafico di una funzione, che noi in italiano tendiamo a chiamare grafico, quello che c'è in alto a sinistra, il grafo come oggetto matematico, oppure il grafico, diciamo così, come un grafico a torta, un grafico a barre, eccetera, un business chart, che più correttamente in inglese si dovrebbe chiamare chart, anziché graph, è più specifico come termine, ma in realtà molti lo chiamano anche graph. Quindi, attenzione che la parola graph è di per sé ambigua, noi non confondiamoci tra quello che è un grafo, in italiano grafo è una parola che non esiste altrimenti, quindi non ci crea particolari problemi, è solo riferibile all'oggetto matematico, e non al grafico di funzione, e non al grafico, diciamo così, a barre o colorato diversamente. sapete probabilmente l'aneddoto per cui, diciamo così, nacque per la prima volta la teoria dei grafi, no? La teoria dei grafi in realtà è nata, quindi, negli anni 30, ma se ne parlava già, o perlomeno i problemi che poi si sono potuti risolvere con la teoria dei grafi risalgono quasi 200 anni prima, no? Perché, diciamo così, sono problemi che saltano fuori, diciamo, molto frequentemente nelle problematiche quotidiane, adesso per carità, l'aneddoto fa riferimento a una città di Königsberg in cui c'era una persona, diciamo così, il classico indovinello da salotto, era se fosse possibile attraversare in unica passeggiata tutti i ponti della città senza passare due volte nello stesso ponte, no? Quindi il classico rompicapo da chiacchierata di fronte a, non so se vedevano il teo o altre bevande in quell'epoca, in quella città, ma non esistevano, no? All'epoca gli strumenti matematici per poterlo trattare, quindi alla fine potevi provare, ragionarci, eccetera, ma una soluzione generale non arrivò appunto fino a questa domanda molto semplice, no? La cui risposta era no, che adesso siamo in grado di dimostrare facilmente, diciamo così, la risposta matematica formale non arrivò se non 200 anni dopo, appunto con la teoria dei grafi, di cui Eulero fu uno dei fondatori principali. Ma al di là della, diciamo così, e quando poi questa teoria dei grafi fu formulata in realtà si vide che era in grado di essere adattata, no? A modellare molti tipi di problemi. E questa versatilità dei grafi alla fine è stata la causa di delle molte sfumature, no? Che questa struttura dati può assumere. Quindi quando parliamo di grafo in realtà dobbiamo specificare qualcosa in più, no? Ad esempio, quando si parla di grafo normalmente si intende un grafo semplice. Un grafo semplice che cos'è? Un grafo tra cui tra ogni coppia di vertici può esistere un arco, può non esistere un arco, ma se esiste ne esiste uno solo. Ecco, la maggior parte dei grafi tendono a essere semplici, in realtà nulla vieterebbe di avere tra una determinata coppia di vertici due archi diversi che li collegano. In questo caso parleremo di multigrafo. Un grafo in cui ci possono essere connessioni multipliche tra qualunque coppia di vertici ben definita. Così come può essere permesso o non permesso che un arco colleghi un vertice con se stesso. Queste sono tutte sottotipologie diverse di grafi, in questo caso a volte si parla di pseudografo, ma questa terminologia anche non è assolutamente, diciamo così, rigida, dipende dalle fonti, dai libri in cui andate a guardare. Quindi questi costrutti, ad esempio il grafo di destra o il grafo di sotto, possono essere permessi o possono essere vietati a seconda del tipo di problema che vogliamo rappresentare. E tra l'altro poi si portano dietro tutti, se vogliamo, i teoremi che ci sono dietro, la matematica che funziona in modo diverso a seconda dei casi. Quindi, per dire che il grafo è un termine molto ampio che al suo interno comprende varie variazioni. Ad esempio gli archi che collegano i vertici possono essere archi orientati, quindi con una freccia, con una direzione, da un vertice di partenza a un vertice d'arrivo, oppure non orientati, quindi semplicemente collegano due vertici ma non esiste una direzione di questo collegamento. e qui di nuovo sono due tipologie di grafi leggermente diversi con comportamenti leggermente diversi che possono essere usati più adatti a seconda del tipo di problema che dobbiamo rappresentare. così come il grafo non è semplicemente spesso un oggetto totalmente astratto in cui ho dei vertici che sono, diciamo così, dei punti e degli archi che sono delle linee oppure delle coppie di punti che vengono messi in associazione, ma spesso noi vogliamo rappresentare dell'informazione associata a questi vertici e a questi archi. Cioè l'esempio che faremo dopo in cui prenderemo un grafo ferroviario, ebbene, in un grafo ferroviario i nodi, i vertici sono le stazioni e quindi in questa stazione ci interessa sapere magari il nome o magari la posizione geografica. E quindi abbiamo delle informazioni associate ai vertici potremmo avere delle informazioni associate agli archi magari un arco che collega due stazioni e un tratto di linea ferroviaria di cui ci interessa magari a che velocità viene percorso dai treni oppure quali sono le linee che la attraversano. In questo caso si parla di grafi etichettati in qualche modo. Cioè un'etichetta è un'informazione che noi aggiungiamo al vertice oppure aggiungiamo all'arco. In queste slide sono semplicemente rappresentati con dei numeri, ma in realtà queste etichette potrebbero essere qualunque tipo di informazione. Ragionando in Java potrebbero essere qualunque tipo di oggetto che noi agganciamo a ogni singolo vertice e o a ogni singolo arco. Poi per carità ci sono varie varianti per cui a volte si parla di grafi colorati quando queste etichette in realtà rappresentano delle classi cioè un insieme finito di possibili valori. Tra cui ad esempio era molto famosa il famoso teorema dei quattro colori che dice che in qualunque cartina geografica è possibile colorarla con quattro colori solamente senza avere due stati adiacenti che siano del stesso colore mentre invece con tre colori non è possibile. Qui si parla di colori in generale sulla cartina geografica sono facili da capire ma più in astratto i grafi colorati in cui ci sono archi cioè di vertici o archi che in gergo diciamo colorati in realtà significa che possono appartenere a casistiche diverse a categorie o classi diverse. Anche qui ad esempio nel caso del nostro grafo ferroviario potremmo avere le stazioni che sono aperte anche nei festivi e le altre no e quindi a questo punto sono informazioni che dividono i vertici in categorie diverse. Dal punto di vista formale noi rappresentiamo e questa non è solamente una definizione matematica ma ce la ritroveremo pari pari quando passeremo alla libreria Java un grafo lo rappresentiamo attraverso un insieme di vertici insieme in senso matematico un set di oggetti astratti che chiamiamo vertici e questo insieme lo chiamiamo V e un insieme di archi e un arco direbbe un matematico è una relazione binaria tra i vertici cioè un sotto insieme del prodotto cartesiano dei vertici in altri termini un insieme di coppie di elementi i quali elementi sono vertici. Quindi quello che noi disegniamo con delle frecce con degli archi in realtà lo possiamo rappresentare matematicamente come la coppia di vertici di partenza e vertici di arrivo di questo arco nel caso in cui si è orientato se invece un grafo non è orientato non c'è un vertice di partenza o un vertice di arrivo ci sono semplicemente due vertici che partecipano a questa coppia a questa relazione. Quindi dal punto di vista matematico semplicemente è definito da due insiemi un insieme di vertici e un insieme di archi e vedremo che anche in Java allora presenteremo esattamente così non saranno solo insiemi saranno soprattutto date un pochino più un pochino più ricche però ci abituiamo a vedere questo grafo disegnato così questo è un grafo semplice orientato grafo semplice con però dei dei self loop detto in inglese in italiano li chiamano dei cappi un cappio come quello del nodo scorsoio che possono collegare un vertice con se stesso e questo lo rappresentiamo secondo quella definizione attraverso l'insieme dei vertici che in questo caso hanno un nome che corrisponde a un numero intero da 1 a 6 e un insieme di coppie ordinate di vertici quindi noi abbiamo la coppia questo è un insieme che contiene su interno degli elementi che sono coppie ad esempio la coppia 1 e 2 rappresenta questo arco qui chiaramente da 1 a 2 tra 4 e 5 abbiamo due coppie la coppia 4 e 5 che rappresenta l'arco diciamo che va da 4 verso 5 orientato verso 5 e la coppia 5 e 4 che invece rappresenta l'arco inverso che è un arco distinto no? sono due archi diversi uno 4 e 5 l'altro 5 e 4 che casualmente in questo caso rappresentano collegano gli stessi vertici ma in un ordine diverso se invece e questo è il caso se vogliamo più semplice da trattare cioè una coppia matematicamente è una coppia ordinata cioè la coppia 5 e 4 e la coppia 4 e 5 sono due coppie diciamo distinte sono due valori distinti due insieme di coordinate distinte il caso particolare è quello invece del grafo non orientato che purtroppo non ha un nome nel senso che parliamo di grafo orientato oppure grafo non orientato per differenza col non non ha un nome suo in cui la differenza è che non è possibile identificare o definire una direzione negli archi collegati negli archi che collegano i vertici e quindi ad esempio non possiamo dire l'arco che va da 1 a 2 oppure l'arco che va da 2 a 1 in realtà è lo stesso concetto lo esprimeremo dicendo l'arco che collega oppure incide sui vertici 1 e 2 matematicamente lo rappresentiamo più facilmente con un insieme piuttosto che con una coppia perché un insieme per sua natura gli elementi di un insieme non sono ordinati l'importante è solo sapere quali sono gli elementi di due chiaramente forzatamente di due elementi quali sono questi elementi che sono contenuti ecco se lo rappresentiamo come insieme è chiaro che l'insieme 1 e 2 sono lo stesso insieme perché contengono l'elemento 1 e l'elemento 2 e quindi è diversa la rappresentazione nel caso del grafo orientato abbiamo coppie ordinate di valori nel caso di un grafo non orientato abbiamo degli archi che sono rappresentati da degli insiemi di due elementi in certo senso questi elementi chiaramente sono pescati dall'insieme più ampio dei vertici dobbiamo solo abituarci a questa differenza della rappresentazione il disegno sembra simile ma poi la rappresentazione interna chiaramente dovrà essere diversa e parliamo in questo caso non di arco che collega un vertice di partenza a un vertice di arrivo come prima ma scusate ho fatto così con le slide non parleremo di arco che collega un vertice di partenza a un vertice di arrivo qui non c'è partenza di arrivo parleremo in generale di adiacenza o incidenza ok quindi diciamo che questo arco è adiacente a questi due vertici diciamo anche che questi due vertici sono adiacenti tra di loro cioè c'è un arco che li collega o che questo arco è incidente sul vertice 1 e quindi ad esempio sul vertice 5 sono incidenti due archi useremo questi termini che sono privi di una connotazione direzionale e questa è la struttura dati di base e quali caratteristiche ha qui faccio un po' una carrellata di definizioni che poi ritroveremo per fortuna tali e quali nella libreria per cui chi ha costruito la libreria JGraftT che utilizzeremo di fatto ha avuto abbastanza attenzione a usare un insieme di nomi di definizioni abbastanza coerenti con quelle che sono le definizioni sui grafi che trovate sul sito WolframAlpha che probabilmente conoscete che non solo ci permette di risolvere l'equazione ma anche tutta una serie di definizioni sugli oggetti matematici quindi queste definizioni che le vediamo dal punto di vista matematico ce le ritroviamo esattamente poi nei nomi dei metodi che avremo più tardi ogni vertice può avere un numero di archi incidenti diversi ad esempio questo vertice ha 4 archi incidenti allora chiamiamo grado il numero di archi che incidono su un determinato vertice se poi il grafo invece fosse orientato occorre distinguere tra i vertici uscenti scusate tra gli archi uscenti da un determinato vertice rispetto agli archi entranti in quel determinato vertice e quindi la nozione di grado si splitta si divide in due sottonozioni che sono il grado in uscita l'out degree gli archi uscenti e l'in degree che invece sono il numero di archi entranti quindi ci dà idea di quanto un determinato vertice è collegato agli altri può benissimo darsi che un vertice sia isolato cioè abbia grado zero questo parla delle connessioni dirette di un vertice con gli altri suoi vertici quindi quali sono gli archi totali il grado oppure entranti o uscenti in questo specifico vertice vabbè questo è un esempio banale che fa vedere per ogni vertice quant'è il suo grado grado che non è definito perfettamente ad esempio nel caso in cui il grafo abbia dei cicli ad esempio questo due quanti archi entranti ha un arco entrante sicuramente da uno e poi eventualmente avrebbe quest'altro arco entrante però lo conto o non lo conto visto che alla fine parto dallo stesso vertice di partenza e qui ho messo un oppure perché di nuovo a seconda dei casi a seconda delle applicazioni ha senso contarlo oppure non ha senso non contarlo nella nostra libreria verrebbe contato quindi diremo che questo vertice qua ha un grado totale pari a 5 1 2 3 4 5 perché la somma di un grado in ingresso pari a 2 e un grado in uscita pari a 3 esco da qua esco da qua che è una cosa un po' strana perché questi due non si annullano ma si sommano ma per fortuna i casi di questo genere sono rari altrimenti la definizione è molto semplice nei grafi orientati possono esserci ad esempio vertici come questi che hanno un indigri pari a 0 cioè non c'è nulla che ci arriva sono dei nodi da cui si può solo partire ma non arrivare se vogliamo usare una metafora di tipo trasportistico così come possono esserci dei nodi in questo caso anche lui è di genere poverino che hanno solamente archi entranti ma non hanno archi uscenti è chiaro che muoversi se intendiamo movimenti in un grafo di questo genere non è del tutto comodo perché ad esempio questi due vertici qui sono penalizzati isolati in un certo senso ecco quando parliamo di muoversi o spostarsi su un grafo cosa significa? significa partire da un vertice e toccare un insieme di altri vertici successivi seguendo ovviamente solamente gli archi permessi non saltando un vertice all'altro caso ma solamente usando i vertici e questa nozione viene catturata dalla definizione di cammino cioè un cammino su un grafo è una sequenza di vertici tali che sequenza quindi ordinata tali che per ogni coppia di vertici adiacenti in questa sequenza esista un arco esista almeno un arco che li collega parliamo di cammino semplice se i vertici non sono ripetuti cioè se in questo cammino che io faccio non passo mai due volte nello stesso vertice altrimenti potrei avere dei cammini non semplici se invece questo cammino passasse più volte dei vertici quindi lo cammino lo posso rappresentare da un insieme di vertici che tocco oppure un insieme di archi che attraverso eventualmente sono informazioni abbastanza complementare tranne nel caso dei multigrafi in cui invece non è univoco definire un cammino conoscendo solo i vertici devo sapere esattamente gli archi che sto attraversando quindi vuol dire che due vertici un vertice di partenza v1 e un vertice di arrivo v con n potrebbero non essere direttamente collegati da un arco ma v con n potrebbe essere comunque raggiungibile da v con 1 attraverso una sequenza un cammino composto da una sequenza di vertici quindi estendiamo quella che è la diacenza diretta quindi un vertice i suoi vicini immediati direttamente collegati lo estendiamo a un concetto di raggiungibilità cioè ci posso arrivare facendo un cammino più lungo più lungo di un arco di un arco e quindi faremo poi attenzione nella libreria ci sono alcuni metodi che ci permettono di trovare i vertici adiacenti che sono chiaramente più facili rispetto ai metodi che ci permettono di ragionare sulla raggiungibilità di un vertice da un altro vertice del grafo stesso vabbè qui in questo caso fa vedere che c'è un cammino di lunghezza 2 ecco dal punto di vista puramente aritmetico la lunghezza del cammino è definita come numero di archi che ha attraverso e quindi mi aspetto che un cammino di lunghezza 2 contenga 3 vertici il numero di vertici che sono coinvolti in un cammino è sempre uguale al numero di archi più 1 quindi facciamo attenzione per evitare i soliti errori più o meno 1 la lunghezza è il numero di archi quindi se io ho 7 vertici identificano un cammino di lunghezza 6 poi ci sono dei cammini particolari che sono cammini non più semplici ma chiusi cammini semplici tutti i vertici sono diversi tra di loro e quindi non passo mai due volte allo stesso vertice ma c'è un caso particolare in cui non passo più volte allo stesso vertice ma magari ritorno al vertice di partenza in questo caso un cammino chiuso si chiama ciclo quindi ad esempio il cammino 1, 2, 5, 1 vediamo subito che non è un cammino semplice perché il numero 1 compare due volte ma è l'unico caso in cui un vertice compare due volte come primo e ultimo elemento e in questo caso costituisce un ciclo chiuso che tra l'altro potremmo descrivere in altri modi potremmo dire 2, 5, 1, 2 se è un ciclo chiuso posso partire da qualunque punto e poi tornare al punto di partenza allora ci sono dei grafi nei quali esistono è possibile trovare dei cicli grafi invece in cui non è possibile trovare dei cicli ci sono i grafi cosiddetti ciclici oppure grafi del tipo aciclico in cui non esiste nessun ciclo per dirne uno un grafo un tipico grafico aciclico quindi che non permette di costruire dei cicli è il grafo genealogico grafo padre figlio madre figlio figli matrimoni eccetera eccetera il grafo va in una direzione sola dai predecessori verso i successori e non è tanto e non è possibile che tu possa essere il bisnonno di te stesso o cose di questo genere tranne nei film di fantascienza sui viaggi del tempo quindi ci sono alcuni tipi di problemi in cui la rappresentazione è assolutamente aciclica l'altro grafo molto sparso ma aciclico è il grafo delle precedenze degli esami voi sapete che in alcuni casi non puoi mettere un esame se non hai messo un altro in precedenza è chiaro che se ci fosse un ciclo in questo grafo diventerebbe impossibile definire un piano di studi perché dovresti mettere A prima di B ma B prima di C e C prima di A e allora come fai a metterlo quindi ci sono dei casi diciamo così in cui questi grafi rappresentano spesso delle condizioni di ordinamento o di precedenza o di sequenza temporale dove è normale che non ci debbano essere dei cicli ci sono degli altri casi in cui i grafi rappresentano delle informazioni più topologiche strade connessioni connessioni diciamo così geografiche connessioni di rete o connessioni tra uffici o diciamo così settori di un'azienda in cui invece è normale che ci debbano essere dei cicli perché deve essere possibile raggiungere qualunque punto da qualunque altro punto quando un grafo ci permette di raggiungere e questo è un concetto che non è direttamente quello ciclico ma è collegato lo vediamo tra un attimo come quando da un qualunque vertice è possibile raggiungere un qualunque altro vertice attraverso un ciclo attraverso un cammino aperto diciamo che il grafo è connesso cioè un grafo stradale normalmente è connesso nel senso che se io sono a Torino e voglio andare a Bari una strada la trovo dove si andrà a Palermo già non più perché in realtà ci sono delle isole e sto pensando solo al grafo stradale invece non è connesso nel senso che non è possibile per ogni coppia di vertici trovare un cammino che li colleghi un grafo che non sia connesso di fatto è un grafo che ha fatto da tante come si dice componenti connesse quindi è possibile partizionarlo in tanti sottografi che tra di loro sono connessi ma non sono collegati diciamo così reciprocamente è facile immaginarselo appunto come una nazione il grafo stradale di quella nazione che contenga delle isole ciascuna di queste isole avrà un grafo stradale delle sue città delle sue strade ma nessuno di queste è direttamente collegata se non si fanno i ponti con le altre isole quindi ad esempio questo grafo che avevamo già usato più volte come esempio in realtà possiamo dire che è un grafo non connesso ma è composto da tre componenti connesse e la componente connessa conosce una componente connessa ci fa capire che è possibile spostarci attraverso un opportuno cammino tra qualunque coppia di vertici all'interno di quella componente mentre invece non è possibile spostarsi tra una componente e una componente diversa anche qua il significato che diamo queste definizioni astratte dipende poi dall'applicazione come vi dicevo più tardi lavoreremo sul grafo delle ferrovie ci si aspetta che sia connesso perché non mi serve niente avere una stazione che non è raggiungibile da altre stazioni poi provate ad andare all'aeroporto in treno mi dite se poi in realtà da noi sono connessi oppure no salto questa definizione il grafo è strettamente connesso perché è abbastanza cervellotica perché nel caso di archi orientati le cose si fanno complicate l'estremo massimo di connettività sono eventualmente un grafo in cui tutti siano collegati con tutti quindi immaginate di non essere legati alle strade per potervi spostare ma avere come abbiamo tutti in cortile un elicottero che vi permette di andare in linea d'aria da qualunque punto a qualunque altro punto quindi in questo caso tutti i cammini sono di lunghezza 1 tutti i cammini semplici possono essere cammini di lunghezza 1 perché possono andare da un punto a un altro direttamente allora un grafo di questo genere sembra quasi inutile perché quando hai tutti gli archi tra tutti i vertici in realtà non stai dando informazione sono tutti collegati con tutti che cosa mi stai dicendo l'informazione ce l'hai quando hai solo alcuni vertici altri no che ti dicono le carte di sistema quindi normalmente un grafo completo di questo genere è utile solo se è etichettato cioè solo se quegli archi lì hanno magari un peso diverso un costo diverso quindi posso fare tutti i collegamenti ma alcuni costano più altri di meno e allora devo trovare quelli che sono diciamo così migliori oppure gli archi i vertici stessi hanno un loro peso un loro costo o delle relazioni di compatibilità o incompatibilità che devo sfruttare se io devo formare dei gruppi di lavoro all'interno di un'azienda ipoteticamente chiunque lavorare può lavorare con chiunque altro però magari ho bisogno di creare gruppi di lavoro in cui il numero di persone sia bilanciato il genere sia bilanciato l'esperienza sia bilanciata e allora ho delle informazioni associate ai vertici che mi obbligano magari a costruire dei sottografi dei sottoinsiemi di vertici con certe caratteristiche che poi dovrò riuscire a scoprire quindi il grafo mi può essere utile per sviluppare un algoritmo per contenere le informazioni sulla base delle quali il mio algoritmo di mapping potrà lavorare ma prima di vedere le applicazioni appunto è facile contare quanti archi deve avere un grafo completo che a seconda che sia orientato o non orientato chiaramente è la metà oppure il doppio di tutte le coppie possibili di archi qui parliamo di grafi senza oppure con dei self loop orientati o non orientati quindi questa formuletta qua ci dice il massimo numero di archi eccetto un multigrafo in cui possono avere infiniti archi volendo perché possono avere tanti archi tra ogni coppia di vertici ma nei grafi semplici questi sono i numeri massimi di archi che possiamo ottenere allora questo mi dà che cosa la possibilità di definire un concetto di densità la densità di un grafo cos'è? non è altro che il numero di archi che c'è effettivamente nel grafo quindi la cardinalità dell'insieme E del grafo dell'insieme degli archi rispetto al numero di archi massimo che potrebbe esistere quindi se un grafo ha tutti gli archi che potrebbe avere o quasi avrà una densità molto alta molto vicino a 1 se un grafo invece ha una percentuale molto bassa degli archi che potenzialmente potrebbero esistere ha una densità molto bassa ovviamente la densità di un grafo in qualche modo è collegata in media col grado dei vertici che lo contengono pensiamo al grafo stradale dell'Italia o intorno a Torino abbiamo città e ci sono dei collegamenti da queste città ma ogni città sarà collegata non so qualche decina di città confinanti massimo ma le città sono migliaia invece quindi con migliaia di città potremmo avere mille per mille un milione anzi mezzo milione se non contiamo l'orientamento di archi possibili ma in realtà quanti archi avremo? beh avremo mille città moltiplicato abbiamo detto dieci vicine ciascuno e quindi avremo diecimila proprio i conti banali quindi diecimila su cinquecentomila vuol dire che abbiamo una densità del 20% molto bassa in un certo senso allora ci serve questa densità perché in realtà sarà un parametro che ci permetterà facilmente di scegliere il tipo di rappresentazione alcune volte o il tipo di algoritmo da utilizzare alcune altre perché ci dice essenzialmente quanti archi ci sono e ci conviene lavorare più sui vertici o lavorare più sugli archi lo vedremo quando costruiamo i grafi ci sarà un trade off da fare tra vari metodi di lavoro che dipende essenzialmente da questa densità ecco poi come sotto caso possibile di un grafo esiste un tipo di grafo che si chiama albero che è definito in modo strano cioè non ci aspettiamo noi normalmente mi aspetterei di vedere la definizione di un albero dicendo un albero è qualche cosa che ha una radice e poi degli archi orientati e poi delle foglie dei nodi terminali certo è così la struttura dati l'albero delle classi l'albero delle chiamate delle funzioni l'albero genealogico l'organigramma sono strutture che sono fortemente orientate nella nostra mente in realtà matematicamente quando io definisco un albero dico semplicemente che un albero è un grafo non orientato diciamo come non orientato sì non orientato c'è scritto aciclico connesso cioè la parola forte qua è aciclico chiamiamo albero un grafo senza cicli sono quasi sinonimi in realtà poi c'è in più undirected e connected connesso perché voglio avere un pezzo unico se invece avessi più pezzi separati sarebbe un grafo che è fatto di tanti alberi diversi qualcuno lo chiama foresta ma vabbè allora è chiaro che un grafo pensiamo un organigramma aziendale pensiamo l'albero genealogico pensiamo le presidenze degli esami abbiamo detto prima di sicuro non devono contenere dei cicli quindi il fatto che sia aciclico mi torna la cosa strana è che sia una condizione sufficiente essere aciclico e stranamente non è orientato quindi questo esempio è un albero dove noi quindi è un grafo che ho disegnato aciclico dove non è evidente in questo momento una nozione di ordine chi è la radice il punto di partenza di questo grafo ecco in realtà matematicamente non serve per definire un albero avere un punto di partenza ma lo possiamo sempre aggiungere ad esempio questo attenzione abbiamo detto è un grafo aciclico connesso quindi un albero è qualche cosa a cui se tolgo un arco diventa non più connesso provate a togliere qualunque arco vi salta fuori un grafo non connesso provate invece ad aggiungere qui lo chiama foresta quindi tolte addirittura due di archi se invece provate ad aggiungere un qualunque arco vi salta fuori un ciclo quindi un albero è una struttura dati a confine al confine tra i grafi connessi e i grafi ciclici cioè ha il numero minimo di archi per essere connesso ma non di più ma il numero se vogliamo massimo di archi che lo rende ancora non ciclico è un elemento di confine se aggiungo un arco qualsiasi create un ciclo se tolgo un arco qualsiasi rompete il grafo quindi ha delle caratteristiche particolari proprio perché si trova in questa terra di confine e grazie alle sue caratteristiche è possibile scegliere a piacere un qualunque vertice che chiameremo radice e definire un orientamento all'interno del univoco all'interno dell'albero partendo dalla radice dato un albero definito in questo modo come grafo aciclico non orientato e connesso questi tre attributi è possibile definire un qualunque nodo radice poi molte volte invece nei problemi pratici noi sappiamo già qual è il nodo radice non è quello che definiamo arbitrariamente ma matematicamente definire una radice identifica una direzione nel resto dell'arco quindi il grafo continua a non essere orientato ma ha una sua direzione di attraversamento naturale che è quella dalla radice verso le foglie o dai padri verso i figli qui vedremo anche nei nomi dei metodi che si mescolano un po' la terminologia botanica radice foglie rami con la terminologia generologica padri figli fratelli mescoliamo un po' tutto ma per darci l'idea essenzialmente dello spostamento all'interno di questi grafi quindi ad esempio noi questo è lo stesso albero di prima ho deciso che questo nodo qua in alto fosse la radice allora questo mi induce gli archi rimangono orientati però se voglio andare dall'ardice a un qualunque altro elemento ho un cammino solo possibile e quel cammino mi chiede di attraversare gli archi in quel modo tra l'altro ricordiamoci quello che abbiamo poi detto se io togliessi un arco diventerebbe un grafo non connesso ma ce l'ho quell'arco quindi il grafo è connesso connesso vuol dire che da qualunque vertice raggiungo qualunque altro vertice conseguenza in un grafo in cui ho identificato una radice tutti i vertici sono raggiungibili a partire dalla radice questa è semplicemente la conseguenza del fatto che è connesso quindi identifico una radice da quella radice posso raggiungere qualunque altro vertice nel grafo ma in più il grafo non è ciclico il fatto di non essere ciclico implica che io ogni altro vertice lo posso raggiungere esattamente in un modo non ci sono due strade possibili per arrivare allo stesso elemento se ci fossero due strade possibili avrei creato un ciclo ma in un albero non ci sono cicli quindi un albero è fantastico per spostarcisi perché io da un vertice che chiamo radice posso raggiungere qualunque altro vertice e ci posso raggiungere in un modo solo algoritmicamente è il massimo quindi noi quando ci sposteremo sui grafi la prima cosa che faremo è dato un grafo qualunque ciclico tipicamente andremo a trovare quale può essere un albero che ci permette di spostarci l'algoritmo si chiama visita del grafo alla fine quello che fa è costruire un albero estraendo un sottoinsieme di diversi del grafo e poi quell'albero lì ti permette di spostarti molto agevolmente perché i cammini ci sono tutti e sono univoci univoci sono i cammini una volta definita una radice perché se io sposto la radice cosa che posso fare quindi decido di partire da un punto diverso l'albero è sempre lo stesso ma l'orientamento indotto degli archi cambia in particolare cambia l'orientamento di questi due archi in mezzo cambia l'orientamento di questi due archi questo e questo mentre gli altri rimangono uguali allo spostarsi della radice il fatto che gli altri rimangono uguali non è un caso deriva da una proprietà del fatto che una volta che sono arrivato in questo vertice il modo per raggiungere gli altri è indipendente dal motivo per cui sono arrivato a questo vertice quindi che fosse la radice oppure che fosse un punto di passaggio da qui in avanti i cammini visto che sono univoci abbiamo detto prima devono essere gli stessi quindi queste proprietà strane le sfrutteremo quando poi dovremo attraversare gli archi e trovare i cammini migliori perché finché lo vediamo disegnato sulla lavagna è facile immaginare un cammino ma poi quando abbiamo struttura dati dove abbiamo magari centinaia o migliaia di vertici dobbiamo ragionarsi dal punto di vista algoritmico l'ultima variante di grafi che volevo citarvi avevamo detto che inizialmente già che era possibile pensare a dei grafi etichettati in cui associavamo un valore a ciascun vertice o a ciascun arco ecco un caso particolare di grafi etichettati erano i grafi colorati dove questi valori erano delle categorie delle classi predefinite un altro caso particolare è invece sono i grafi pesati dove questo valore questa etichetta in realtà è un numero reale numero che di solito viene associato a un costo o un vantaggio diciamo così un costo o un beneficio dell'utilizzare barra attraversare un determinato arco quindi per andare da AF mi costa 0,9 di cosa di tempo di benzina di non lo so no? dipende dal problema quindi i grafi pesati sono grafi in cui non solo c'è l'informazione diciamo topologica di quali sono le operazioni permesse ma c'è anche associato di solito si parla di costo potrebbe essere pensiamo se poi cambiamo segno pensiamo invece al vantaggio del fare un'operazione piuttosto che farne un'altra e quindi è una categoria particolare di grafi etichettati e quelli grafi pesati quando parliamo di pesato stiamo dicendo l'etichetta è un numero reale spesso positivo ok questo diciamo così come carrellata veloce di cose che in realtà già sapevamo o sapevate sì dimmi scusa posso avere più di un'etichetta sullo stesso vertice sullo stesso arco chiaramente con significati diversi nel senso che parlando in java io potrei dire beh su un arco io rappresento sia il peso che magari il proprietario oppure la nazione o quello che sia in java vorrà dire che ci metteremo un oggetto che ha varie properties e poi magari alcuni algoritmi sfrutteranno alcune proprietà e altri sfrutteranno altre quando parlo di etichetta parlo in generale di qualunque valore poi ci sono i casi particolari in cui l'etichetta si riduce come molto spesso succede sugli archi si riduce un numero mentre sui vertici spesso abbiamo informazioni associate più ricche ok tutto questo in java come si traduce noi potremmo dire guarda il grafo mi ha indetto che si rappresentano due insiemi uno dei vertici uno degli archi e quindi cominciamo a costruire questi insiemi in realtà questo qua l'ha già fatto qualcuno qualcuno che ha già creato una libreria che si chiama jgraph-t ce ne sono due o tre di librerie famose in java che fanno questo lavoro noi usiamo questa libreria jgraph-t che è abbastanza pulita non ben diciamo così facile da utilizzare una volta che si entra nella logica che implementa già per noi questa struttura dati fatta di due insiemi l'insieme di vertici l'insieme degli archi e lo vedremo proprio nel senso che ci accorgeremo che sono degli insiemi perché ci richiederà di usare che ne so un hash code sugli elementi che devono essere messi all'interno di un set quindi per determinare in modo univoco quindi sotto diciamo così dentro la libreria lui utilizza insiemi e mappe noi non ce ne accorgiamo direttamente perché appunto usiamo dei metodi più di alto livello che ci vengono forniti direttamente dalla libreria e grazie al meccanismo di java dei generics è possibile etichettare molto facilmente i vertici in parte anche gli archi ma soprattutto i vertici quindi il vertice di un grafo sarà un oggetto qualunque che io specifico con diciamo specificando un generic nella definizione del grafo stesso quindi è molto facile definire il tipo di vertice e il tipo di arco matematicamente è un oggetto che non ha senso perché ho degli insiemi mi ha detto un vertice no qualunque cosa che posso mettere in un insieme ecco in java è un tipo di oggetto che scelgo io e quindi potrò creare un java così come posso creare una lista di città io potrò creare un grafo i cui vertici sono città e quindi rispetto a tante altre librerie che lavorano puramente sul livello matematico quindi numerico ci permettono già di lavorare con degli oggetti nel nostro archetico maven è già caricata l'ultima versione di jgraph t che è al numero di versione 151 attenzione che si chiama jgraph t con la t finale e da non confondere con jgraph che è un'altra libreria che non c'entra nulla che serve per disegnare dei chart dei grafici a torta a barre eccetera quindi non confondiamone quando andiamo a cercare la documentazione è sempre jgraph t noi stiamo pensando la libreria che ci permette di trattare l'oggetto matematico qui ci sono i link fondamentali essenzialmente sul sito web jgraph t questo è tutto volendo andare a vedere sorgente in alcuni casi è anche curioso andare a vedere come hanno implementato alcuni algoritmi a codice scritto bene è documentato bene quindi se siete curiosi potete andare a vedere tutto su github il codice ma soprattutto abbiamo sia un piccolo tutorial questa qua che è chiamata user guide sia ovviamente la documentazione delle classi che andremo a consultare quindi fatemi almeno aprire questa qua e questa qua che andremo sicuramente a vedere oltre al sito principale che di fatto è solamente una pagina che dice che bello quello che abbiamo ma ci dà i link che sono anche qua del javadoc e del wiki che contiene la guida utente al suo interno quindi questi sono i link di partenza come è organizzata questa libreria allora serve per rappresentare in termini di strutture date dei grafi e è il motivo fondamentale implementa già centinaia di algoritmi per lavorare sui grafi stessi quindi quando voi avete studiato l'algoritmo di calcolo di cammini minimi ad esempio secondo l'algoritmo di Dijkstra state pur certi che qua dentro c'è l'implementazione già di quell'algoritmo quindi non dobbiamo implementarcelo noi se rappresentiamo il grafo secondo questa libreria troviamo già tutti gli algoritmi tutti quasi tutti gli algoritmi implementati ovviamente dobbiamo capire a cosa servono quali sono le loro condizioni ma poi la parte di implementazione diciamo così è lasciata alla libreria stessa quindi questa libreria è abbastanza diciamo così articolata non dico complicata c'è un package principale che si chiama org.jgraph.t che comprende le classi principali tra cui una interfaccia da cui discende tutto che si chiama graph graph è un interface e una classe che si chiama graphs con la S ne vediamo tra un attimo poi abbiamo un sottopackage che si chiama graph che contiene le varie le classi corrispondenti a tutte le varianti di grafo possibile cioè grafo semplice grafo pesato grafo orientato non orientato multigrafo eccetera eccetera perché abbiamo detto prima quando parliamo di grafo possono essere tutte queste varianti allora loro cosa hanno detto definiamo un'interfaccia astratta che si chiama graph e tutta una serie di classi concrete che implementano le varie sfumature dei grafi poiché queste implementano tutte le interfacce a graphs si usano tutte nello stesso modo quindi i metodi saranno esattamente gli stessi chiaro che alcune cose che posso fare su un tipo di grafo non le posso fare su un altro tipo di grafo se io cercassi di aggiungere un secondo arco a un grafo che non è un multigrafo tra i due vertici tra i quali esiste già un arco in un caso nel caso di un multigrafo me lo aggiungi e nel caso di un grafo semplice mi dà errore ma il metodo è lo stesso il metodo da chiamare lo stesso e poi c'è un sotto package alg che contiene invece tanti algoritmi possibili già implementati tra l'altro alg è un package che contiene al suo interno tanti altri package ciascuno dei quali contiene alcune classi che implementano varie varianti degli algoritmi di quella categoria lì quindi parlavamo prima di grafo connesso o non connesso c'è un package alg.connectivity che ha tutti i metodi per definirti se il grafo è connesso o non è connesso quante componenti connessi ha quali sono se è strettamente connesso oppure semplicemente connesso e qui c'è tutto il mondo vuoi cercare cicli c'è il package che contiene gli algoritmi che sono relativi alla ricerca dei cicli in un grafo e poi ci sono cicli di vario tipo parleremo forse più avanti se abbiamo tempo perché quest'anno stiamo perdendo qualche lezione per le feste di cicli euleriani cicli amiltoniani eccetera e dentro ci sono algoritmi per fare queste cose e così via insomma cammini minimi percorsi completi un tour un percorso che tocca tutti i grafi e torna al punto di partenza partizionamento di un grafo in più in più sottoparti indipendenti e così via quindi qui dentro ci sono le implementazioni già in java di moltissimi algoritmi che avete probabilmente in parte studiato a ricerca cooperativa e che poi ci salteranno fuori nel voler affrontare i problemi pratici allora questo è l'organizzazione generale dell'Ebria in pratica noi abbiamo una abbiamo detto un'interfaccia che è la madre di tutti che si chiama graph e un'interfaccia generica così come list è un'interfaccia generica perché devo dire list di che cosa anche graph è un'interfaccia che ha due parametri generici v ed e v rappresenta la classe del vertice quindi ogni vertice sarà un'istanza di un oggetto di tipo v quindi potrò avere un graph integer se i vertici sono degli interi graph string se i vertici sono presentati degli interi graph città se i vertici sono presentati della città fermata se i vertici sono presentati in una fermata ferroviaria così via è l'oggetto che per noi rappresenta il vertice quindi la cosa comoda è che dentro il grafo metteremo direttamente gli oggetti Java che contengono i nostri dati tipicamente questi oggetti li avremo magari letti da un database direttamente e poi il tipo di archi il tipo di oggetto che contiene nell'arco allora ci sono già due tipi di oggetti mentre per i vertici non c'è nessun tipo predefinito lo definisco io nel caso semplice come dicevo può essere l'oggetto integer oppure l'oggetto string per i tipi di archi ce ne sono già due definiti dalla libreria che si chiamano default edge e default weighted edge che sono i due tipi di archi più semplici cioè quello normale non etichettato può essere orientato o non orientato ma non è nessuna informazione associata il default edge oppure il default weighted edge nel caso che il grafo sia pesato quindi abbiamo un'etichetta che è semplicemente un numero reale un double se vogliamo degli archi che contengono informazione più ricca non c'è problema ci dobbiamo creare una sottoclasse di default edge o di default weighted edge secondo che lo vogliamo pesato oppure no e poi creiamo un grafo con una di queste sottoclassi non avremo quasi mai in questo corso negli esempi che faremo non avremo quasi mai la necessità di farlo però non è che sia particolarmente più difficile l'importante è usare una sottoclasse di questi in modo da perché la libreria ovviamente si aspetta di avere dei metodi compatibili con quelli implementati in queste due classi vincoli che tipo di oggetti posso usare come tipo di vertice o tipo di arco e beh il tipo di vertice deve andare a finire in un insieme all'interno jgraph-t usa un hash set per memorizzare i vertici e quindi deve essere un tipo di oggetto che possa finire in un set quindi di fatto deve definire hash code equals in modo coerente altrimenti vabbè altrimenti non te lo lasci proprio creare il grafo perché tutte le volte quando fa un add o un aggiunta di un elemento va a cercare se quell'elemento esiste già oppure no nell'insieme e se è un insieme non possiamo avere vertici duplicati quindi due vertici che siano uguali l'uno all'altro quindi dobbiamo semplicemente ricordarci che l'oggetto che usiamo come vertice abbia la definizione corretta di hash code equals ma se noi gli oggetti diciamo di fatto li abbiamo letti dal database stiamo applicando le regole di costruzione degli oggetti secondo l'ORM che abbiamo visto le settimane scorse abbiamo già questo requisito soddisfatto ok a livello di metodi come dicevo tutti i tipi di grafi che voi vediamo tra un attimo quali sono discendono dall'interfaccia graph e hanno tutti questi metodi questi sono i metodi di base per gestire la struttura dati grafo poi invece sono i metodi più intelligenti che sono dentro il package algoritmi che invece fanno le cose più su larga scala analizzano ricercano sul grafo questi sono essenzialmente per gestire il grafo stesso ad esempio ovviamente questo grafo ha una doppia collection insieme di vertici e insieme di archi per cui ci immaginiamo che ci sia un metodo ad vertex per aggiungere un nuovo vertice al grafo così come c'è il metodo ad su una lista c'è due tipi di ad diversi aggiungi un vertice oppure aggiungi un arco per aggiungere un vertice basta passare un oggetto di tipo vertice per aggiungere un arco ovviamente gli dovrò passare un vertice di partenza e il vertice d'arrivo poi ovviamente questo arco viene interpretato in modo diverso secondo che il grafo sia orientato oppure non orientato quindi viene poi salvato tenendo conto dell'ordine che ho scelto partenza arrivo oppure no nel caso di un grafo pesato ho un metodo per impostare il peso di un arco che ho creato quindi creo un arco ad edge e poi imposto il peso di quell'arco e quindi posso aggiungere vertici aggiungere archi a una collection che inizialmente è vuota qui si vede che devo prima aggiungere i vertici poi aggiungere gli archi perché non posso aggiungere un arco se non ho il vertice di partenza e il vertice d'arrivo quindi giustamente prima devo avere i vertici poi li collego aggiungendo degli archi una volta che li ho aggiunti posso interrogare il grafo facendomi dare un insieme di vertici vertex set vedete che qua salta fuori proprio il set dei vertici che ci ho messo dentro quindi non è una sorpresa so già cosa c'è oppure degli archi che ci ho messo dentro edge set oltre i metodi contains cioè un po' sembra di quasi di avere due liste parallele due collection parallele ho il metodo add il metodo per dare valori per cercare se un elemento è contenuto questi sono dei contains che lavorano su dei set quindi hanno tempo di recluzione istantanea non c'è nessun metodo qua che faccia la scansione di tutti i vertici contiene un vertice contiene un arco tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo sì o no get edge mi trova l'arco tra due vertici quindi dato i due vertici mi trova l'arco oppure dato un arco mi trova il vertice di partenza e il vertice di arrivo get edge source get edge target oppure dato un arco mi trova il peso get edge weight e quindi fin qua abbiamo parlato di vertici e di archi poi cominciamo a parlare di connessioni come si collegano questi vertici e questi archi beh la cosa di base ce l'abbiamo perché sappiamo che dato i due vertici c'è un oggetto arco che può collegarli o no perché magari non sono collegati i due vertici oppure dato un arco ci sono dei vertici di partenza e di arrivo ma in modo più semplice posso chiedere quali sono dato un vertice tutti gli archi che entrano in quel vertice in coming edges o tutti i vertici l'insieme degli archi non diversi degli archi che escono da un determinato vertice oppure edges of che è più semplice tutti gli archi che entrano oppure escono da un determinato vertice quindi attraverso questo è possibile dato un vertice trovare tutti gli archi che sono entranti uscenti o incidenti e attraverso questi archi a loro volta trovare il vertice che è stato dall'altra parte e quindi cominciare a spostarsi da vertice a vertice creando dei cammini questi chiaramente sono i metodi di base per potersi spostare poi ci sono dei metodi più furbi che ci permettono di fare già questi spostamenti che ci servono qui ci sono i metodi in degree out degree e degree off che interrogano un nodo chiedendogli quanti archi ha l'ingresso in uscita e il grado totale che sono quelli che abbiamo definito prima ci sono i metodi remove che non andiamo a guardare perché cancellare è sempre brutto e non ne avremo quasi mai bisogno quindi alla fine c'è questa manciata di metodi che sono appunto figli del fatto che un grafo non è altro che due set e questi set sono in qualche modo collegati da un vertice posso passare all'arco incidente da un arco posso passare al vertice su cui incide questo vale per tutti i tipi di grafi e tutti i tipi di grafi sono in realtà tutte queste classi qua quindi l'interfaccia graphs ha se non conto male 16 classi diverse che implementano questa interfaccia e implementano le varie varianti dei grafi io vi ho saltato nell'elencare di metodi quelli che lavorano sui multigrafi perché non avevano quasi mai bisogno e come facciamo a orientarci in queste classi allora io ho fatto c'è una tabellina sulla documentazione che ci dice guarda il tuo grafo ha gli archi orientati o non orientati vuoi che siano permessi self loop sì o no vuoi che sia un multigrafo sì o no vuoi che gli archi siano pesati sì o no e ovviamente ci sono 4 condizioni per quello ci sono 16 16 classi possibili che sono tutte le possibili 16 combinazioni di queste 4 condizioni allora io ho fatto un videogioco insomma che ci permette facilmente di trovare la classe che ci serve qui ho messo in ordine in una griglia queste 16 classi quindi quando abbiamo un problema e dovremo implementiamo un grafo che ne so pesato orientato semplice qual è di queste classi che devo usare allora rispondo alle domande la prima domanda che mi faccio è il grafo che voglio è orientato o non orientato allora tutte le classi di destra sono relative a grafi orientati tutte le classi di sinistra sono relative a grafi non orientati quindi io mentalmente guardo questa slide e dico ok il mio grafo era un non orientato quindi adesso mi concentro sulle due colonne di sinistra e non guardo più le due colonne di destra poi la seconda domanda che mi faccio è pesato o non pesato allora io qua in questa figura ho messo al centro i grafi pesati e i lati grafi non pesati quindi io questo grafo lo volevo se mi ricordo ciò che ho detto un minuto fa lo volevo pesato e quindi dovrà essere nelle due colonne centrale attenzione però io ho deciso che guardavo solo le due colonne di sinistra perché lo volevo non orientato quindi vuol dire che mi rimane il focus sulla seconda colonna non guardo più le altre e la terza domanda che mi faccio è come voglio gli archi semplice semplice con il self loop multiplo il pseudografico il pseudografico non lo faremo quasi mai se è semplice vuol dire che è sulla prima riga allora prima avevo selezionato la colonna che era la seconda adesso ho selezionato la riga che è la prima e quindi vuol dire che vado a prendere un simple weighted graph quindi nella mia new nella mia istruzione new per creare l'oggetto grafo creerò un new simple weighted graph se invece le mie scelte sono diverse con questa semplice procedura atterrerò su una classe diversa che è la classe del grafo che uso tutto questo impatta solamente l'istruzione new ovviamente quando creo il grafo tutto il resto invece continuo a usare i metodi ereditati dalla classe graph quindi cosa vuol dire creare un grafo e poi lo cominciamo a passare ad un esempio significa decidere la classe che contiene i vertici decidere la classe che rappresenta gli archi che nella maggior parte dei casi sarà default edge nel caso in cui il grafo sia non orientato scusate non pesato default weighted edge nel caso in cui il grafo invece sia pesato e creare un nuovo oggetto di tipo graph con gli opportuni generics che abbiamo scelto di creare un nuovo oggetto di una classe qui ho scritto simple graph ma dipende da quello che abbiamo scelto che abbiamo trovato nella griglia di prima è il tipo di grafo che ci serve il costruttore di grafo delle varie graf delle varie classi grafo ha un parametro strano che è l'oggetto classe dell'oggetto arco arco è supponiamo default edge questa è una classe la classe ha un attributo tutte le classi in java hanno un attributo statico fa parte della parte di java reflection in cui all'interno di un programma java puoi interrogarti sugli oggetti che hai sulle proprietà degli oggetti che hai questo attributo statico si chiama punto class ad esempio che fa riferimento alla rappresentazione interna della classe default edge è tutta una roba storta perché quindi va specificato come parametro quindi io non basta solo che specifichi il nome della default edge come generic ma in più tra parentesi nel costruttore devo anche dirgli default edge punto class questo perché è un po' una conseguenza del metodo con cui lavora internamente java sugli oggetti per far funzionare il metodo ad edge ad edge mentre ad vertex quando creo un vertice gli passo io il vertice v quindi me lo sono creato io e lo do al grafo il metodo ad edge invece è un metodo refactory che riceve due vertici quindi devo averli creati io e restituisce un arco e un oggetto di tipo arco dimmi ma non poteva fare cat plus dal generico no e quindi poiché lui mi deve generare un oggetto di tipo e deve sapere qual è la classe di cui generare l'oggetto ok in java non c'è modo di estrarre da un parametro generico la classe effettiva che è stata passata dentro il codice di graph se io scrivessi e punto class mi darebbe un errore non definito perché quando compilo non so ancora qual è la classe di quell'oggetto e quindi devo passare un'informazione che deve essere passata a run time questa è una limitazione del meccanismo della reflection combinata con i generics quindi ci crea questa piccola diciamo così inconveniente o scomodità semplicemente dobbiamo scrivere due volte il nome dell'arco per far funzionare i metodi di factory degli archi e gli archi li può solo creare il grafo non possiamo crearli noi poi per sarli già creati perché lui fa tutto un lavoro di collegamento tra arco e vertice tra vertice e arco nel momento in cui lo crea quindi è un oggetto che si decisce lui si decisce tutto diciamo completamente tranne per la creazione stessa che ha bisogno della classe dell'informazione sulla classe questo ve lo salto e una volta che ho creato la classe grafo ci aggiungo i vertici ci aggiungo gli archi con i metodi ad vertex hard edge che abbiamo visto e se voglio stamparlo che ne so basterà è definito un buon tool string che mi stampa testualmente una rappresentazione diciamo abbastanza leggibile del contenuto del grafo non me lo disegna con i colori sullo schermo non me lo stampa in formato testuale sulla console allora proviamo noi avevamo adesso qui sono degli esempi troppo semplici prendiamo questo esempio qua questo grafo qua se volessimo costruire con la libreria jgraph t questo grafo come faremmo? allora io passando ad eclipse vi avevo già preparato un metro paris un progetto che si chiama metro paris per lavorare sulla metropolitana di parigi faremo già una seconda ora con un esempio più complesso io creerei semplicemente una classe qua all'interno di questo progetto perché ha già tutte le librerie pronte quindi se vi siete già clonati questo progetto metro paris io creerei semplicemente una classe diciamo così possiamo prova grafo nel package principale semplicemente per provare a lavorarci abbiamo quattro istruzioni nel main per riuscire a creare questo grafo se no vi create un programma potete crearvi un progetto java nuovo però ricordatevi che dovete avere dentro le dipendenze questa libreria jgraph t e quindi se lavoriamo con i progetti che abbiamo già preparato evitiamo di dover in questo momento lavorare per creare un nuovo progetto e impostare dipendenze allora noi vogliamo creare un grafo di questo genere allora prima di tutto dobbiamo chiederci cosa sono gli archi e cosa sono i vertici allora qua mi pare che gli archi non abbiano nessuna informazione associata non hanno un peso non hanno un etichetta i vertici hanno un'informazione di tipo stringa associata quindi cos'è v e cos'è e v sarà stringa e sarà default edge quindi per creare un grafo di questo genere dobbiamo creare un grafo che diciamo un oggetto che implementa l'interfaccia graph e graph ovviamente me lo vado ad importare da org.jgraph.t che abbia come vertici delle stringhe e come archi un default edge un arco semplice senza nessuna decorazione or pello anche il default edge lo devo andare a importare e quindi la prima scelta è la tipologia del vertice e la tipologia dell'arco vincolo che il vertice deve avere definito l'esco dell'equals ma gli oggetti predefiniti ovviamente ce l'hanno poi la seconda domanda che mi faccio è che tipo di grafo allora in questo caso scusate se torno al disegno avrò un grafo che è semplice non orientato non pesato semplice non orientato non pesato andiamo a vedere un pochino il giochino di prima non orientato vuol dire vado a sinistra non pesato vuol dire prima colonna semplice vuol dire prima riga quindi siamo su simple graph questa classe qua quindi creiamo un nuovo oggetto di tipo simple graph graph della stessa signature quindi anche qua lo devo importare e i generics ovviamente devono essere uguali e poi un costruttore deve avere un parametro che è la classe con cui costruisco gli archi quindi in questo caso il default edge punto class poi molto spesso questi due parametri li posso lasciare sotto intesi perché essendo nella stessa riga in cui ho definito la variabile che li contiene Java è capace a capire da solo diciamo così quali sono questi valori quindi molto spesso lo lasciamo vuoto a questo ma non vuol dire che non lo stiamo specificando vuol dire gli stiamo dicendo vatti a prendere quella di la variabile che hai definito c'è un minimo di inferenza di tipi Java che ci permette di sottintendere in alcuni casi i generici perché quelli devono essere altrimenti questo uguale genererebbe errore e quindi capisce da solo quali sono ma per competenza quali ho scritti quindi qua ho creato un grafo vuoto è come quando creiamo una lista vuota new array list ok la lista è ripronta contiene niente dentro contiene zero cose dentro a questo punto possiamo cominciare a metterci elementi dentro quindi nell'ordine dovremo mettere prima i vertici poi gli archi sull'oggetto grafo c'è il metodo ad vertex che ha come parametro un oggetto di tipo in questo caso di tipo string ad vertex tra parentesi string perché così l'ho impostato quindi ovviamente l'ad vertex si prende il tipo che abbiamo impostato quindi qui parla di R, S, T, U V, W, X, Y, Z quindi ci sarà un vertice che si chiama R un altro che si chiama S un altro che si chiama T vabbè per ora metto questi tre R, S e T tra l'altro R, S sono collegati T no poi aggiungiamo gli altri quindi qua ci saranno poi tutti gli altri vertici che aggiungiamo e poi una volta che ho aggiunto i vertici ho inserito i vertici aggiungerò gli archi grafo punto ad edge in cui devo passare il riferimento a un vertice di partenza e il riferimento a un vertice di arrivo ad esempio R è collegato con S mentre T non è collegato nessuno e così via poi ci saranno tutti gli altri archi allora occhio che qua abbiamo un oggetto R che abbiamo inserito nel grafo che è un oggetto di tipo stringa e qui stiamo dicendo che vogliamo collegare un arco dall'oggetto R all'oggetto S ragionando in termini di oggetti però questo oggetto stringa e questo oggetto stringa sono due oggetti diversi più in generale no ovviamente avendo lui un set va a andare a cercare a collegare l'elemento del set che è equals a quello che gli è passato per avere esattamente l'oggetto che è finito dentro il grafo dovrei andare a interrogare il grafo e farmi dare il vertice io invece non ti passo non vado non sono obbligato a farlo basta che ti passi un qualunque oggetto che sia uguale nel senso di equals a uno che c'è già nel grafo queste sono stringhe non ci fa grossa differenza però ci accorgeremo poi quando questi oggetti hanno in realtà delle proprietà che hanno dei valori che questa piccola distinzione ci serve più avanti ecco proviamo a stampare il grafo semplicemente stampando un print line due to string non è grafo è grafo ho scritto in italiano quindi se io faccio run di questa roba qui o mi da errore oppure funziona e se funziona mi stampa questa cosa qua è facile da leggere una volta che ci siamo abituati è aperta tonda e chiusa tonda è una coppia di due cose la prima cosa è l'elenco dei vertici la seconda cosa è l'elenco degli archi quindi tra questa prima coppia di parentesi quadre ci stanno i vertici e mi ha stampato è un po' come quando facciamo il print line di una lista mi stampa tra parentesi quadre gli elementi della lista il to string degli elementi della lista chiaramente in questo caso i to string sono le stringhe stesse i nomi di tre vertici virgola l'elenco degli archi in questo caso c'è un arco solo che è l'arco che collega RS questo arco è rappresentato con le parentesi graffe perché mi ricorda che è un arco non orientato quindi è scritto come se fosse un insieme con le graffe se avessi più archi ovviamente avrei RS virgola parentesi graffe ST virgola eccetera eccetera adesso magari aggiungiamo altri tre o quattro per vederlo ok quindi riusciamo a avere una rappresentazione del grafo nel caso in cui il grafo fosse orientato anziché queste parentesi graffe avremmo delle parentesi tonde che ci rappresentano il fatto che gli archi sono orientati da a una coppia di elementi quando siamo abituati da quando facciamo le coordinate cartesiane che il primo elemento è diverso dal secondo come ordine mentre invece all'interno di un grafo non orientato quindi la differenza a livello di true string che ci dà la libreria jgraphy è semplicemente questa quando stampo un grafo non orientato mi dà le graffe nell'elenco degli archi quando stampo un grafo orientato mi dà invece l'elenco dei vertici possiamo fare una prova al volo se io prendessi la classe analogo a simple graph ma orientata si chiamerebbe simple directed graph quella in alto a destra quindi non è questo grafo qua ma facciamolo come prova se anziché simple graph creassi un simple directed graph con le stesse informazioni quando fa la print me lo stampa cosa c'hai l'autocompletamento a volte fa casino ecco come lo stampa sono le stesse informazioni ma qua vediamo delle parentesi tonde anziché delle parentesi graffe a indicare che questo è l'arco rs che è diverso dall'arco sr eventualmente mentre prima come insieme diciamo è l'arco tra r e s indistintamente beh immaginate di voler completare questo è un esercizio facile ma noioso perché dovremo aggiungere uno a uno tutti i vertici ad esempio magari questi vertici li abbiamo già all'interno di una collection perché magari li abbiamo letti dal database e quindi abbiamo tanti oggetti all'interno di una lista e ciascuno di questi dovremo fare advertex all'interno di un ciclo che va a scandire questa lista questo per dire che i metodi che abbiamo visto sulla classe graph sono i metodi più di base però molte operazioni in realtà sono frequenti di frequente necessità allora hanno chi ha creato questa libreria e possiamo ringraziarlo che hanno definito dove è andato qui hanno definito una classe statica che si chiama graphs con la S che contiene una serie di metodi di comodità di maggior comodità cioè di fatto non c'è nulla che non si possa già fare con i metodi che abbiamo visto sulla classe che eredita che implementa l'interfaccia graphs ma qua ci sono dei metodi che ci possono semplificare la vita ad esempio add all vertices add all vertices allora questa è una classe statica quindi i suoi metodi sono tutti statici li chiamerò come graphs.nome del metodo ed essendo un metodo statico lui non è collegato a nessun oggetto cioè mentre add vertex è un metodo del grafo la classe eventualmente add il metodo add all vertices che è elencato qua è un metodo statico di una classe statica quindi lei non sa non è associato al mio grafo infatti tutti questi metodi come primo parametro hanno sempre il grafo su cui devono lavorare vabbè lo passiamo come parametro anziché averlo come oggetto su cui chiamare il metodo anziché fare una sottoclasse che era già complicato così avendo 16 classi diverse ha deciso facciamo una classe statica e ci mettiamo i metodi che servono add all vertices cosa fa? dato un certo grafo che lui chiama destination gli posso passare un insieme di vertici già sotto forma di una qualunque collection quindi se questi vertici già li avessi in una lista basta fare graphs punto add all vertices tra parenti grafo virgola nome della lista e lui dentro se andate a vedere l'implementazione di sta roba qua cosa avrà dentro avrà un ciclo for che uno per uno fa il vertex però ciclo for se l'ha scritto lui e non dobbiamo scrivercelo noi ogni volta così come ci sono anche dei metodi di comodità dato un vertice la lista dei vertici adiacenti neighbor list oppure predecessore successore nel caso in cui l'arco sia il grafo sia orientato e ci interessa solamente andare sugli archi uscenti o sugli archi entranti e questo è più comodo rispetto ai metodi di graph che dato un vertice mi danno gli archi adiacenti e poi per ciascun arco devo trovare qual è il vertice che è stato dall'altra parte se voglio spostare da vertice a vertice questo lavoretto qua me lo fa già questo metodo quindi ci troveremo ad usare molto spesso metodi di questa classe graphs per semplificarci il lavoro ma soprattutto ad all vertices lo useremo sempre gli altri un pochino e get opposite vertex anche tra poco cominceremo a usarlo ok e una volta che ho creato questo grafo magari aggiungiamo altri qualche altro vertice così riusciamo a farci qualcosa v e w x facciamo questa parte qua v w x oltre a rst e quindi dobbiamo aggiungere gli archi corrispondenti che sono quello tra r v e s w quindi ad edge tra r e v tra s e w poi ne abbiamo abbiamo aggiunto anche t quindi c'è un t w t x e w x t com'era? t x t w t x t w t w e poi abbiamo w x ok quindi qui è lo stesso grafo a questo punto abbiamo sei vertici abbiamo un certo numero di archi che sono quelli che abbiamo inserito se volessimo in un programma lavorare con questo grafo che cosa potremmo fare? ad esempio potremmo chiederci immaginiamo di non averlo appena creato no? e quindi vogliamo chiederci qua quanti vertici ci sono e poi magari quali facciamoci un po' di lavoro allora per sapere quanti vertici ci sono come posso fare? out punto print line print ln numero di vertici sono la dimensione dell'insieme di vertici quindi grafo l'oggetto grafo aveva un metodo vertex set che mi restituisce l'insieme di vertici sotto forma di set semplice e quindi posso calcolare la sua dimensione così come posso stampare il numero di archi interrogando la dimensione del edge set del grafo stesso in questo caso mi dice che ho sei vertici e sei archi e se voglio sapere quali sono i vertici e magari che grado hanno quindi quali archi hanno io posso iterare ad esempio sul vertex set posso iterare sul vertex set come for con un ciclo for iterando sull'oggetto di tipo vertice in questo caso una stringa chiamiamolo v come vertice grafo punto vertex set quindi posso dire per ciascun arco ad esempio che ho il vertice vertice che si chiama v che ha grado mettiamo gli spazi perché a grado allora il grado di un vertice non lo sa il vertice stesso l'oggetto v è solamente una stringa lo sa il grafo a quali altri vertici ha collegato quindi sarà il grafo punto degree of del vertice v ma qui sto interrogando il grafo per dirgli per farmi dire che il vertice r è a grado 2 il vertice s è a grado 2 il vertice t è a grado 2 e così via cioè vuol dire che r avrà due altri vertici adesso collegati e quali sono questi altri vertici adesso collegati beh lo posso anche stampare scoprire andando a interrogare il grafo dicendo quali sono dato il vertice v gli archi che incidono su questo vertice ho il metodo getEdges quindi io potrei dire ho il metodo grafo punto getEdges get getAll eh aspetta eh aspetta che non si chiama così andiamo a tornare là scusatemi si chiama ehm Edges of scusate Edges of non lo ricordo perché lo usiamo poco eh of che mi da nel vertice v il metodo Edges of cosa mi da mi da una elenco di oggetti un set di oggetti default edge quindi dato un certo vertice mi da tutti gli archi un insieme un sottofondo di set tutti gli archi che incidono su questo vertice qua e quindi ad esempio potrei iterare su questi oggetti default edge arco su questi che sono gli archi incidenti su questo specifico vertice e potrei provare a stampare vediamo cosa mi stampa ecco mi stampa questa cosa qua strana vertice r a grado 2 e i due archi sono quello che va da r s e da r v il vertice s a grado 2 che sono l'arco r s che ovviamente parte anche da s e l'arco s w questo è ciò che fa il two string dell'oggetto arco adesso noi magari stampare questa cosa qua non ci piace ci piacerebbe dire il vertice r a grado 2 ed è collegato all'altro vertice s e al vertice w s è collegato a r e w e così via qui noi non andiamo a stampare direttamente l'oggetto arco ma andiamo a estrarre qual è il vertice di arrivo il vertice di arrivo che cos'è? beh il vertice che sta dall'altra parte dell'arco allora andiamo a vedere i metodi c'è un metodo get edge source e un get edge target che dato l'oggetto arco mi dà il punto di partenza e il punto di arrivo e quindi andiamo a interrogare grafo punto get edge target rispetto all'arco all'oggetto arco get edge target riceve come parametro un oggetto arco un default edge e restituisce un vertice quindi posso stampare qualche cosa del tipo magari mettiamoci un tab davanti così sono rientrati abbiamo detto il vertice a grado è connesso a arrivo vertice di arrivo quindi se io faccio run di questo mi dirà il vertice r è a grado 2 è connesso s è connesso v fantastico poi la riga sotto è un po' meno fantastica allora qui cosa ho fatto quindi ricordiamocelo ho ciclato sugli archi sui edges of del vertice r e per ciascun arco ho preso il edge target quindi il vertice destinazione dell'arco sul secondo mi piace un po' meno perché il vertice s è a grado 2 va bene lo sapevo e s è connesso a s no aspetta come a s s è connesso a s non lo voglio scrivere non è vero il problema qual è è che s è connesso a 2 quindi a 2 archi il primo di 2 archi l'abbiamo scritto come arco rs quindi il suo source get edge source è r scusate sì r e il suo target è s allora io lo stesso arco in realtà adesso lo sto guardando prima mi piaceva no? perché da r mi ha trovato s r come source mi ha trovato s come target adesso però sto usando s come punto di partenza che ovviamente mi trova l'arco rs perché l'arco il grafo è non orientato quindi l'arco li posso usare in un modo o nell'altro ma poi quando vado a interrogare il singolo arco lui che ne sa il suo source continua a essere r e il suo target continua a essere s sono io che lo sto interrogando male io dovrei dire senti ok tu sei l'arco giusto però il vertice d'arrivo può essere chiamato edge target oppure edge source a seconda del lato dal cui lo sto guardando quindi devo fare un po' un distinguo se per devo dire se il source sono io l'altro è il target altrimenti l'altro sarà il source lo scrivo a codice che è più facile se grafo vediamo v equals di grafo punto get edge source di arco vuol dire se l'arco è rappresentato in modo che il source di quell'arco il punto di partenza di quest'arco sia proprio questo vertice v su cui sto stampando le cose allora il punto di partenza dell'arco coincide col source e quindi stamperò giustamente il target come arrivo altrimenti vuol dire che va tutto bene ma l'arco che sto rappresentando è girato al contrario e quindi v sarà dentro il graph dentro l'edge target e quindi dovrò stampare il source quindi praticamente stampo il contrario devo stampare non l'edge target ma l'edge source quindi se io sono il source stampo il target se io non sono il source vuol dire che sono il target e quindi stamperò il source che è il vertice che sta dall'altra parte e così è più senso r a grado 2 connesso v e s s a grado 2 è connesso r perché in questo caso ho l'arco r e s ho visto che s era il target e quindi ho stampato il source che era r ed è connesso v t è connesso a x e v doppio v è connesso solo a r e così via ecco questo tipo di cosette di basso livello sono il motivo per cui esiste la classe graphs perché dentro la classe graphs ad esempio c'è un metodo che si chiama get opposite vertex che fa già questo ragionamento cioè visto che sono su un vertice voglio quello opposto devo fare attenzione a come è girato l'arco dentro la classe graphs c'è già questo e quindi è come se io scrivessi la stringa arrivo chiamando questo gli passo come primo parametro il grafo come secondo parametro l'arco e come terzo parametro il vertice di partenza quindi questo metodo qua get opposite vertex fa esattamente queste cinque righe dato un grafo dammi il vertice opposto a v lungo questo arco e quindi se stampassimo stampiamolo con un asterisco così vediamo che che arriva dall'altro metodo ovviamente stampa la stessa cosa ma è più comodo per quello che prima non mi ricordavo come si chiamava il metodo EGSOV insimili perché spesso uno poi si impara i metodi della classe graphs e quindi anziché scrivere tutto questo codice qua ma no questo è giusto anziché scrivere queste sei righe di fatto ci ricordiamo che esiste questo metodo get opposite vertex che in qualche modo ci facilita un po' rispetto all'implementazione di basso livello del grafo che a volte ci crea tra l'altro questa stranezza qua salta fuori solo se abbiamo un grafo non orientato perché se avessimo un grafo non orientato non dobbiamo fare questo gioco qua perché l'arco ha un certo verso e non possiamo percorrere il contrario mentre opposite vertex funziona già in entrambi i casi ok sono diciamo così piccole metodi di scrittura che impareremo usando la classe per riuscire a spostarci di navigare insomma all'interno del grafo addirittura posso fare un passo oltre e poi mi fermo sempre nella classe graphs se voglio dire dato un vertice quali sono i suoi vicini addirittura c'ho enable list of che mi dà già una lista dei vicini quindi posso anche addirittura evitarmi tutto questo ciclo qua e mi posso stampare calcolare farmi calcolare direttamente la lista dei vertici vicini sempre da graphs neighbor list del grafo dal vertice v e quindi avrò i vicini sono e mi stampo e mi stampo la lista mi manca un import di list chiaramente e con una istruzione solo in fondo cos'hai che non ti piace da r i vicini sono sv già come lista quindi questo metodo qua neighbor list of oppure outgoing l'altro ci sono questo neighbor list va bene sui grafi non orientati se no ci sono la lista dei predecessori cioè degli archi entranti o dei successori cioè degli archi uscenti dipende cosa voglio attraversare mi dà già direttamente sotto forma di lista quindi non devo neanche andarmi a enumerare gli archi e trovare il vertice opposto nell'arco quindi normalmente quando vogliamo passare spostarci nel grafo da vertice a vertice ci può bastare questo metodo che poi internamente fa questo lavoro non c'è nulla di speciale sono tutte le cose che già possiamo fare ma ci semplifica il lavoro dimmi il primo parametro di metodi di grafo è sempre il grafo hanno voluto separare i metodi di base proprio minimi per gestire la collection rispetto ai metodi di utilità diciamo così che poi si sono trovati a usare loro stessi hanno pubblicato la libreria e poi hanno detto caspita questa cosa qua la sto scrivendo 17 volte mi faccio un metodo di utilità da parte però non vado a modificare la classe grafo questo tra l'altro gli facilita il lavoro perché domani che dovessero implementarsi nuove classi grafo devono solo implementare i metodi dell'interfaccia graph e non devono implementare tutti questi altri metodi questi altri metodi richiamano a loro volta i metodi di graph quindi hanno minimizzato la perimetro dell'interfaccia base e semplicemente hanno fatto dei metodi in più hanno deciso di farli come metodi statici anziché come sottoclassi perché l'identità multipla in java è vietata essenzialmente oppure come altre interfacce successive qui avesse il grafo che dovrebbe implementare due interfacce così l'implementazione della classe grafo prescinde dal metodo di utilità che in qualche modo potrebbero sempre aggiungere altri senza dover toccare le classi grafo va bene abbiamo toccato un po' queste cose io a questo punto siamo anche in ritardo per fare intervallo dopo l'intervallo giocheremo inizieremo a giocare con questo grafo qua quindi visto che gli austri amici sono in vacanza a fare il ponte noi nell'ora dopo andiamo a Parigi questo è il grafo della RER della rete ferroviaria di Parigi